Sono Damiano, ho 20 anni, vivo nelle Marche e studio a Milano e ho deciso di frequentare questo corso principalmente perché sono interessato alle nuove tecnologie e penso siano fondamentali insomma anche per avere un'idea generale su tutti i cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo e che magari vivendo in Italia, soprattutto noi giovani comunque non ce ne rendiamo conto per quanto siamo comunque immersi in queste nuove tecnologie, io ad esempio non avevo idea di come funzionasse una stampante laser o stampante 3D e insomma qui mi sono fatto un'idea. Che cosa vuoi fare da grande e quanto le tecnologie ti aiuteranno a realizzare i tuoi sogni? Mi piacerebbe aprire una startup e credo che saranno fondamentali.